Bentornati sul canale. L'argomento di oggi è molto importante e riguarda tutti coloro che investono tramite DeGiro. Ci siamo resi conto recentemente di non aver ancora trattato questo tema e abbiamo voluto subito porvi rimedio. Oggi parleremo della sicurezza dei nostri beni su DeGiro. Per prima cosa dobbiamo fare una distinzione tra quelli che sono i nostri investimenti, ad esempio azioni, etf, obbligazioni in cui abbiamo investito eccetera, e il nostro denaro non ancora investito, detenuto nel conto deposito Flatex. Queste due componenti sono infatti soggette a garanzie diverse. Per quanto riguarda il nostro denaro depositato nel conto Flatex, questo è garantito fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Tedesco. Se dunque abbiamo fino a 100.000 euro nel nostro conto deposito Flatex e Flatex fallisce, possiamo dormire a sonni tranquilli in quanto il Fondo di Tutela dei Depositi ci rimborserà i nostri soldi. Se invece abbiamo più di 100.000 euro depositati nel conto Flatex, fino a 100.000 euro saranno garantiti dal Fondo di Tutela dei Depositi, come detto precedentemente, mentre l'eccedenza rispetto ai 100.000 è a rischio. Il fatto che sia a rischio significa che se la banca Flatex fallisce, vi è effettivamente il rischio di perdere questi soldi. In questa fattispecie, infatti, il Fondo di Tutela sui Depositi non garantirà nulla. Non è detto tuttavia che i nostri soldi vadano comunque in fumo. Il nostro credito sarà iscritto al passivo della banca e liquidato nell'ambito del processo di liquidazione. I crediti verso i depositanti sono tra le somme che sono rimborsate per prime, per cui è assai probabile che ne ricaveremo comunque qualcosa, anche se probabilmente non il 100% della cifra iniziale. Passiamo ora a vedere quali garanzie abbiamo sui nostri investimenti effettuati con DeGiro. Per prima cosa ci dobbiamo chiedere chi detiene i nostri investimenti effettuati su DeGiro? La risposta non è DeGiro. DeGiro si avvale infatti di una segregazione patrimoniale per proteggere gli investimenti dei suoi clienti. La segregazione patrimoniale avviene attraverso l'uso di una persona giuridica separata. DeGiro detiene tutti gli investimenti dei clienti presso persone giuridiche separate, SPV Long Only e SPV Long Short. L'unico scopo statutario di questi Special Purpose Vehicle è la detenzione passiva degli investimenti per conto degli investitori clienti di DeGiro. In questo modo gli strumenti finanziari dei clienti non possono essere accessibili dai creditori di DeGiro, anche nel caso in cui venga dichiarato fallimento da parte di DeGiro stesso. La forma giuridica degli SPV utilizzati da DeGiro è quella della Fondazione di Diritto Olandese. Queste fondazioni non hanno azionisti, DeGiro non è quindi proprietario degli SPV, quindi gli SPV sono indipendenti da DeGiro. Non svolgendo alcuna attività commerciale il rischio che questi SPV falliscano è assolutamente minimo. Nel caso improbabile che il patrimonio segregato non possa essere restituito ai clienti, DeGiro rientra nel sistema tedesco di compensazione degli investimenti, che compensa le perdite derivanti dalla mancata restituzione del patrimonio fino al 90%, con un massimo di Euro 20.000. Fino a qui tutto chiaro e semplice, no? Bene, perché ora le cose si complicano. Gli SPV possono infatti detenere gli strumenti finanziari dei clienti di DeGiro presso enti terzi. Questo è il modo in cui tutte le società di investimento e le banche detengono gli investimenti per conto dei propri clienti. Facciamo un esempio per capire meglio come funziona tutto il sistema. Vediamo cosa succede quando un cliente DeGiro investe nel mercato giapponese, per esempio. Il broker giapponese che DeGiro utilizza per il mercato giapponese acquista i titoli sulla borsa giapponese su richiesta di DeGiro. Su istruzione di DeGiro, il broker giapponese dispone che un depositario giapponese riceva un diritto per quanto riguarda i titoli sotto forma di iscrizione contabile nei registri del CSD giapponese. CSD sta per Central Securities Depository. Una CSD è la parte centrale dell'infrastruttura dei valori immobiliari in un mercato. I CSD gestiscono il sistema che permette il regolamento delle transazioni su titoli. In particolare i CSD permettono la registrazione e la custodia dei titoli, permettono il regolamento dei titoli in cambio di denaro, tracciare quanti titoli sono stati emessi e da chi, tracciare ogni cambiamento nella proprietà di questi titoli. Torniamo ora al nostro esempio. A sua volta il depositario giapponese contabilizza il diritto relativo ai titoli acquistati nel conto presso di sé intestato al depositario ad esempio olandese o inglese di DeGiro. Il depositario di DeGiro a sua volta crea nel conto della SPV presso di sé un diritto per quanto riguarda i titoli. Infine, alla fine di questa catena, l'utente riceve i titoli giapponesi come registrazione contabile nel suo account DeGiro. Si crea dunque una catena di diritti denominata catena di custodia, di cui l'utente, in qualità di investitore finale, è il beneficiario finale. DeGiro richiederà anche a questi soggetti terzi, che entrano in gioco nella catena di custodia, di porre in essere la segregazione patrimoniale per proteggere gli investimenti dei clienti di DeGiro contro l'eventualità di un loro fallimento. Tuttavia, le norme in materia di segregazione patrimoniale sono diverse da paese a paese, sia all'interno che all'esterno dell'UE, e possono esserci giurisdizioni in cui la segregazione patrimoniale non è possibile o non venga semplicemente richiesta dalla legge. Se non vi è segregazione patrimoniale nei confronti di un terzo nella catena di custodia, gli strumenti finanziari detenuti con tale ente terzo potrebbero essere a rischio, in caso di fallimento di tale parte. Con questo abbiamo finito la trattazione dell'argomento del giorno. Vi lasciamo dei link in descrizione per alcuni documenti o parti di sito dove potete trovare il riscontro di quanto è stato detto. Speriamo che abbiate trovato valore in questo video. Vi invitiamo a mettere mi piace e a lasciare un commento se avete qualche dubbio o domanda. Se invece non siete ancora iscritti, iscrivetevi subito ora per non perdere altri video come questo. Ci vediamo alla prossima.